La vita cristiana è essenzialmente amore ed esempio di amore. Ogni azione umana è un pezzo di eternità ed ha una ripercussione universale. Lavare i piatti o rammentare calze per tutta la vita, rendendo gloria a Dio come le opere dei grandi missionari o dei santi fondatori. Tutto dipende dall'amore che anima ogni azione. Inoltre, nell'ampito del corpo mistico, un legame spirituale ci fa interdipendenti. Nessun atto è buono o cattivo solo per chi lo fa. Dio manifesta la sua santità in tutta la storia della salvezza con azione di amore e di misericordia e di perdono. Io sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te. La santità cristiana si incarna nella concretezza della vita quotidiana. Superando le difficoltà dell'abitudine, porta a far compiere bene tutto quello che si fa, giacché una grande santità può maturare mediante piccoli gesti e azioni di ogni giorno. Non si tratta di annullare se stessi, ma di avere il dominio di sé per essere liberi di donarsi a Dio e ai fratelli nella conformità completa a Cristo crocifisso e risorto. L'Equarestia, fonte di santità. La Chiesa nel proporci le letture che trattano l'istituzione dell'Equarestia è come una mamma che rievoca con tenerezza gli ultimi istanti della morte del figlio suo. Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Prima della festa di Pasqua, Gesù sapendo che era giunta la sua ora, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Difatti, mentre mangiavano, presi il pane e pronunziato la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo, prendete questo è il mio corpo. Le nostre giornate sono piene di difficoltà e sofferenza che vanno dalla stanchezza agli insuccessi, dall'incomprensione alle malattie. Ogni cristiano, unito al sommo sacerdote Cristo, celebra la sua messa in qualsiasi posto si trovi o attività che svolga. La mamma celebra la sua messa quando pulisce le scarpe al marito, e lava i piedi al figlioletto, come Gesù agli apostoli. Il papà, quando dice al figlio mancia questa pasta asciutta, io ho gettato il sangue per lavorare, per procurare questo cibo. celebrano la loro messa, l'operaio, l'impiegato, lo studente, quanto compiono il quotidiano dovere senza compromessi e interessi egoistici. La testimonianza di Padre Pio. Padre Pio è un lettore spirituale realista e suggerisce la via della santità la più ordinaria. Niente macerazione straordinaria, ma paziente accettazione delle difficoltà inevitabili, delle sofferenze fisiche e morali. Chiedeva l'esercizio delle piccole cose, l'osservanza dei propri doveri e non chiudere il cuore alle esigenze dei fratelli. È su questo punto che ciascuno di noi è chiamato a compiere il cammino della santità. Tutto si compendia amore di Dio e amore dei fratelli.